90 casi di malattie nel 2012 è il dato più triste circa l'amianto o ethernet la cui produzione anche se bloccata e vietata dal 1992 continua a miettere vittime. I dati e-mail circa le malattie professionali non lasciano scampo. Venezia ha un primato tutto suo rispetto ai 19 casi nel Padovano, agli 11 della marca, 9 del Vicentino fino ai 7 del Bellunese. Venezia ne ha 90. Un dato che fa capire come il territorio anche a distanza di 20 anni paghi ancora caro il prezzo della presenza di amianto in molti luoghi di lavoro e non solo e gli effetti anche dopo 20 anni possono farsi sentire ma a volte è anche troppo tardi. 400 persone negli ultimi 10 anni sono morte a causa dell'Ethernet. La sorveglianza sanitaria fornita da Inca CGL esiste ormai da due anni dando assistenza medica gratuita a chi ha lavorato con l'amianto ma molti preferiscono rinunciare al servizio. Troppa paura della diagnosi anche se in molti hanno intentato causa legale per ottenere un indennizzo. 800 solo nel veneziano. Una situazione che deve continuare a preoccupare. L'Ethernet infatti come spiega la CGL veneziana era ovunque anche nelle scuole e al momento pare difficile credere che sia stato rimosso tutto.